buongiorno amici ben ritrovati sul canale microrologi oggi sabato come di consueto ci troviamo all'inviate ma non siamo solo nella veste di cacciatori di orologi ma anche di espositori eccola qua la teresa con il suo banco questo qui non si vede bene amore così o prologi anche rotti non funzionati belli brutti vi copro tutti va bene compro tutto compro tutto qui guardate che meraviglia questi bracciali espandro vabbè questa è una carrellata di mio orologio ma poi c'è anche un po di crono c'è qui anche un bel bright link crono colt mega il sacco princeps tu si arrascia quello non mi ricordo mondia di unis e questi sono i crono e quelli sono i crono e qui una carrellata di roi questa è tutta roba che scambio si fanno scambi e qui si fanno scassi si può anche a scambiare certo dal banca dai 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 forse coraggio forse coraggio vi aspettiamo ciao angelo raffaele che angelo raffaele scusa io stanno insieme con tutti sti noi tranquilli allora mi stai facendo vedere prima che c'è una bella novità sì dove è finito il salto a bravo e messo adesso è uscito il c'è questo bel calendarietto e la particolarità che non ho mai visto è la lente magnificatrice sul giorno del mese e il giorno della settimana ed è pure funzionante raffaele guardate uscito il passante e va bene carino è carino sì sì oltretutto il prezzo che chiedi non è neanche caro oh ma qui c'è anche un bellanco magari la cassa un po po vissuta ma funzionante si sta andando sta girando la cassa è giusta questo è un bel anche è anche marcato fondello qui c'è anche un altro crono mi faccio stare facendo vedere questo manco qui questo cos'è automatico o carica manuale 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 poi una carrellata di sì con nuovi nuovi cioè nuovi nel senso che non abbiamo mai visti e ritirati da poco ma che funzionante esperanto forte e forte sì ho già sentito questo brand anche cassa cromata anni 70 un altro lanco qui questo qui è anche carino lo sto amatico si è bella diciamola la forza caratteristica si ma il cinturino è russo però era quello che c'era dentro la foto del gagari ma dai va bene questo svegliarino si questo l'ho visto lucerne lucerne si stavo guardando velocemente quelli nuovi questo sigel l'avevamo già visto si questo per seo questo credo sia una riedizione vero allora allora avevo pensato giusto fammi vedere dietro se cassa cromata perché ne facevano tanti eh sì sì ma l'avevo giusto sì sì una via via monta sempre un movimento di qualità unitas però sono delle riedizioni sì perché c'era il c'era il mito dell'orologio preciso l'orologio delle ferrovie e allora facevano tanti imitazioni interessate che questo miglino va bene ciao raffaele stavolta l'ho detto giusto grazie altrettanto eccezionalmente solo per oggi portato gli orologi sì di là c'è il banco di euro non hai visto la teresa la teresa qui c'è un bel tiso carusel questo qui è un fs assegnato lo spaceman te lo posso dare a 300 euro col cinturino originale ovviamente vissuto però è ancora portabile è in cuoio ed è uno spaceman e c'è anche un vetro nuovo in scorta cambia tutto è invece il crono il tiso t12 ha preso una patina stupenda è vero questo qui è quello che dicono il famoso arologio di lucio d'alla perché c'è una foto con quello col movimento praticamente le mani il taglio e poi un mega speed master si può fare bello mi hai messo benissimo però sei completo no per quello viene via bello dario ho messo molto bene c'è anche un navigator ah questi sono nuovi si sai che bisogna sempre rinnovare si giusto 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 se non rinnovi si è finito eh si perché poi se continuano a vedere sempre gli stessi orologi è quello che avevo sempre detto cioè conviene magari non guadagnarci esatto ma far girare la roba che deve farla girare il mercato bravo che deve far girare il mercato c'è anche un cricket perché se il mercato gira no va bene gira quel col d'altro i ball bravo ti hai ben ragione non è nessuno che lo mette a posto bene Dario no lo vendo così non sto impegnato si no hai ragione è portabilissimo fantastico penso che ne ho avuti anche io un paio di questi roggi qui però quando li ho venduti era in un periodo che nessuno li apprezzava ma c'è il ritorno si tutto torna tutto torna bravo ah per il cinturino dici vabbè ma basta è una vite che si può toglierla il cinturino si sa mettere una vite ma funzionalmente non cambia nulla si va col trapanino piano piano perché tanto l'ottone la mangi tranquillamente dai questo è automatico non so che non mi ricordo grazie Dario molto bello questo roloce di design bello questo qua no dovrebbe essere un manuale vediamo se si mette la carica si da come si sente il rumore ed è un lingotino d'oro qui c'è ancora questo bel mondia big eye peccato che sia ancora è proprio bello non c'è non c'è gli inserti l'ottone tuttora contatti dell'amico Dario ciao Dario buon lavoro grazie Cesare grazie di tutto siamo al banco dell'angelo no non è il mio genere vediamo un po' se ci sono delle levità mi piaceva il primo che mi ha mandato la foto questo sito è un 430 che non ho mai visto lo Speedmaster lo Speedmaster quello era il il professional carica manuale ebra c'erano ancora un paio non li vende ah non era in vendita quello? no c'erano io un paio non li vende ah si va bene guarda che bello stamattina l'ho messo in verde un rarissimo ah si quel un rarissimo lo chiamavano se non ricordo male quello del macchinista si perché veniva piombato che bello lo riprendiamo? lo riprendiamo ciao ragazzi ci vediamo dopo questo qui una volta che era piombato non potevi più rimetterlo allora questo Cesare praticamente ha una levetta si ha questa levetta qui premendo questa levetta solo dall'interno si fa la rimessa all'ora puoi fare la rimessa all'ora che poi è molto intelligente che non la puoi spezzare è fatta in questo modo esatto praticamente poi si chiudeva il filo d'acciaio con il piombo con la pistola e lo potevi variare all'ora si il macchinista perché doveva essere il più preciso possibile entretutto ho messo anche in buonissime condizioni si si il quadrante è perfetto poi l'ho fatto vedere al Roberto trombetta è tutto originale il quadrante ma è funzionante? si funzionante adesso allora è scarico tiene benissimo il tempo perfetto con l'assegnazione uno dei primi è stato datato mi sembra 27.451 si 47 fantastico bello è stato già venduto però si? si già prenotato eh no è stato proprio è stato anche pagato ah proprio ok allora no invece altre novità angelo novità allora è entrato il 6 anni 70 sport 70 ah col quadrante arancione 6.5 sport poco cessare perché non sto investendo tanto perché adesso vado è giusto giusto e quando rientro poi settembre avrò delle novità si riparte si perché adesso poi per lasciarli poi in cassetta di sicurezza bravo hai ragione adesso pensiamo a volerci le vacanze grazie angelo grazie a te ciao buon lavoro inquadriamo i tuoi contatti che non si sa mai di nuovo ciao angelo grazie Cesare grazie ciao Stefano ciao Yvonne ciao Cesare buongiorno ma vedo che ci sono un sacco di novità veramente tante veramente tante che oggi sei in doppia veste ti faccio vedere subito quelli che sono gli occhi ma quelli belli belli io voglio vedere quei due eni che adesso te li faccio vedere che bei che isè ma che belli 1 e 2 tutti e due col suo col loro bracciale mamma mia che meraviglia sono dei pezzoni che meraviglia questi si vedono in giro tra i 2 e i 3 mila euro poi ovviamente per i prezzi quindi chiedete pure anche in privato 1 e 2 questi sono due bei pezzi vintage super carini cos'altro c'ho di vintage ah ah c'è un'altra roba che non si vede tanto spesso in Italia mi prendi amore mio farmi vedere anche la scatola del terreno questo qui è un Seiko Monster si è un Tudor Black Bay 58 è proprio lui è un monaco è un monaco dov'è il monaco eccolo qua ti ho detto che avevo un sacco di novità come si chiama non mi viene in mente il nome quello blu lo chiamano lo chiamano lo chiamano Pinco Pallino bellissimo si esatto grazie dall'aiuto meno male che abbiamo gente preparata esatto non come me o come me un bellissimo Ingers quello è super carino eh quello è super carino c'ha se non ricordo male è un Unitas all'interno guarda allora è un derivato Unitas è un derivato Unitas movimento Segal dovrebbe essere ah no questo qui è movimento Miota ah ok è un Miota 82 15 perfetto vedi per fortuna che c'è qualcuno che ne capisce qualcosa no cioè qui c'è l'esperto che di questo è quasi più carina la scatolina in legno che l'orologio di per sé si si magari mi stavi dicendo invece del ah qua c'è una roba che in Italia si vede veramente poco Sarei in Calec si se la ghiera è in oro non è placata noi facciamo l'università con calendario no ci siamo chiamati con crono si carica manuale questo è un automatico 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 qua c'è ancora il suo tag dell'epoca si col prezzo dell'epoca esatto in lire in lire in lire beh questo è un anni 90 comunque quindi si carino questo è particolare più che altro questo qui è il Tudor già con il movimento di manifattura si 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 questo si è abbastanza recente non mi ricordo se è del 2021 o 2023 te lo dico subito intanto se lo vuoi riprendere 2021 ha già il movimento l'inserto ghiera cos'è alluminio o sembrerebbe alluminio però penso di sì perché perché a volte fanno quella ceramica opaca ragazzi non lo so se lo sapete mettetelo nei commenti io purtroppo così non lo capisco bello comunque si questo è super carino ma io amo il Tudor poi tutto rosso ultimamente bello si 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 poi cos'altro c'è ah questo è arrivato stamattina fresco 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 di zona che bello ma cos'è un alpinist si è un baby un baby alpinist con queste lancette cattedrale e questo quadrante grenet buongiorno Cesare leggermente salve sto facendo le riprese scusate con questo quadrante leggermente sfumato comunque il cambio molto carino l'hai fatto vedere al sole si 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 cambia di tonalità ci ha montato un Ancol Seiko quindi il bracciale non è originale ma c'è il cinturino suo scusa che bracciale gli ha montato? è un Ancol Seiko un? eh sono dei bracciali che fanno compatibili con sia con i vedi che i finali si adattano super bene si ho capito perché è un brand che fa bracciali per i Seiko esatto esatto non solo per i Seiko però ha una buona qualità di bracciali una carrellata di mido una carrellata di mido anche in versione nera perché noi siamo inclusivi è vero assolutamente inclusivo questo è nuovo anche lui più che altro esatto più che altro se no mettere il video sono sulle mie novità ce n'è ancora però fermiamoci qua va bene caro ti ringrazio grazie a voi ma se uno ti volesse contattare come fa? allora preferisco che non mi contattiate però se proprio dovete si se proprio dovete allora quasi sono inquadrati questo QR code se stoppate il video in questo momento esatto inquadrate questo un po' di roba se invece lo guardate col telefono copiate su un pezzo di carta il numero di telefono si aspettate mezzanotte luna e chiamate perché lui risponde solo di notte non capisco perché dai stai detto i follower che poi lo fanno davvero si 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 ascolta lo fanno a me scusa eh mi chiamano a mezzanotte luna ragazzi non chiamate solo è pronto il mio orologio per cui non chiamate solo me a mezzanotte luna ma chiamate anche Stefano si lui ama essere disturbato lo adoro lo adora è uno dei miei feticci si 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 essere chiamato e svegliato a luna poi quando ma noi vi amiamo per questo perché fate vedere la vostra fate sentire la vostra presenza chiamate quando dobbiamo soprattutto il venerdì sera che poi il giorno dopo ci dobbiamo svegliare alle 5 per venire al mercatino un bijou guarda un bijou fantastico ciao ciao amici bene amici siamo arrivati al termine di questo video purtroppo non abbiamo cacciato nulla perché siamo bloccati qua al banchè siamo dediti al lavoro giustamente eh il video se vi è piaciuto come al solito sapete già cosa dovete fare cliccate mi piace iscrivetevi al canale ascoltate la campanella per rimanere sempre aggiornati a proposito adesso che mi viene in mente una cosa importantissima oggi è l'ultimo giorno cioè oggi è l'ultimo sabato qui di mercatino all'imbiate riprende il 31 agosto ok per cui non venite sabato prossimo se no non trovate nessuno non trovate nessuno riprende il mercatino all'imbiate il 31 agosto ciao buona vacanza al prossimo video ciao è incredibile quanto il quadrante mi piaccia cambia di colore quando il sole lo baccia e sai che lo levo sotto la doccia me ne prendo cura no non prende la pioggia mi ho portati a revisionare già un paio da un uomo con la barba ed un bianco saio sono arrivato in orario ah 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 l'amico rollo ciaio è qua si l'amico rollo ciaio è qua yes l'amico rollo ciaio è qua ah 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 l'amico rollo ciaio è qua l'amico rollo ciaio è qua un parabola è qua non Grazie per la visione!